Buonasera a tutti i telespettatori da Marco De Luca e benvenuti alla TG Nord. Sarà tra Matteo Salvini e Umberto Bossi la competizione per la segreteria federale della Lega Nord. Sono soltanto loro due infatti ad aver raggiunto le mille firme, ovvero il numero minimo di sottoscrizioni per le candidature. Si è conclusa oggi alle ore 12, si legge in una nota la raccolta delle firme per le candidature a segretario federale della Lega Nord che saranno sottoposti al voto alle elezioni primarie il prossimo 7 dicembre. Sulla base dei dati finora raccolti per via informatica che dovranno essere confermati ufficialmente nella giornata di venerdì previa verifica dei documenti cartacei di raccolta, il responsabile organizzativo Roberto Calderoli esprime grande soddisfazione per l'ampia partecipazione che visto quasi il 40% degli aventi titolo sottoscrivere una delle candidature. Venerdì a conclusione del controllo cartaceo verranno comunicati i dati precisi delle sottoscrizioni dei singoli candidati.